Sindaco, si è creato il giusto entusiasmo intorno alla squadra ed è sicuramente importante anche perché molti dei ragazzi rappresentano attraverso i colori della squadra questo territorio. Sì, mi fa piacere aver sentito cognomi locali, persone che vivono qui, ragazzi che studiano qui, sono giovanissimi, molti del 99, del 98, del 97 e speriamo che questo sia un campionato vincente, che la dirigenza, i tifosi abbiano soddisfazione, i genitori di questi ragazzi che insomma toglieranno un po' di spazio allo studio e che però credo che abbiano possibilità di fare bene. Mi sembra un gruppo unito, un allenatore che conosce bene queste categorie, speriamo bene, l'imbocca al lupo dell'amministrazione. Noi li abbiamo seguiti in qualche allenamento e stanno studando davvero tanto, meritano l'applauso del pubblico, a questo punto da primo cittadino le chiedo un messaggio anche per la città, bisogna stare vicino alla squadra? No, no, ma bisogna stare vicino in generale allo sport, oggi è possibile come dire avere tanta scelta, però insomma vedere una partita in diretta al Camporenzulli, fare il tifo, seguire questi ragazzi, incoraggiarli, è un'altra cosa rispetto a vedere la partita in televisione. E questo vale per chi fa calcio, per chi fa basket, pallavolo, tennis tavolo, rugby anche ad Ariano, atletica. Io sono convinto che insomma c'è la possibilità di attraverso questi ragazzi di sostenerli e di fare molto bene.